I residenti del quartiere di Torrione a Salerno chiedono di conoscere la verità su quanto sta accadendo nel cantiere dell'ex istituto Sacro Cuore. L'area da qualche giorno è stata sequestrata dai vigili su ordine della procura. Il sospetto è che all'interno possa esserci dell'amianto, un pericolo che preoccupa anche per la vicinanza della scuola Matteo Mari, istituto che ospita circa mille alunni. Non a caso anche il coordinatore dei moderati e popolari, Aniello Salzano, ha scritto al sindaco Enzo Napoli per chiedere un intervento immediato. Credo che ci siano ragioni sufficienti per essere preoccupati. Io mi auguro che il pericolo dell'amianto non ci sia, però se ove mai ci fosse stato, insomma, già si è sviluppato e credo si sia diffuso nell'aria. Adesso è stato coperto, i calcinacci sono stati coperti, spero che sia sufficiente questa misura presa. Salzano inoltre ha chiesto di sapere cosa sorgerà al posto dell'ex istituto Sacro Cuore, che per tanti cittadini di Torrione ha rappresentato un punto di riferimento importante. Hanno assistito all'abbattimento di questa valazzina, ma soprattutto dell'abbattimento della chiesetta, alla quale molti di noi, soprattutto quelli del quartiere, erano particolarmente legati. Era un punto di riferimento culturale e religioso per gli abitanti del quartiere. Purtroppo, ecco, diciamo, è un'epoca che è tramontata, dolorosamente tramontata per molti di noi.